È uno spettacolo inquietante. Litigi, confusioni, ritardi sul piano italiano per il recovery plan sono totalmente indecenti. Il piano italiano ancora non c'è, i partiti di maggioranza si ricattano tra di loro e Conte invece di andare avanti vuole creare un vergognoso carrozzone per gestire il potere e i soldi. Vuole una mega struttura che possa esautorare i ministri e soprattutto la sua maggioranza. Invece di pensare ai fondi per far partire il paese, l'obiettivo di Conte è moltiplicare le consulenze, gli sprechi, le poltrone. Altro che i pieni poteri di Salvini. Qui li ha Conte e però nessuno grida lo scandalo. Il governo ha fallito la gestione sanitaria del covid, quella economica e anche quella della ripartenza. È imbarazzante quanto stia avvenendo. Questo governo è fermo e inconcludente. Persino in Europa, dove sponsorizzano Giuseppi per paura di Salvini, sono abbasiti. Stanno sponsorizzando Conte la sua maggioranza di poltronari in ogni modo, ma ricevono solo scene pietose di caos e litigi. Tra l'altro il governo rischia non solo di perdere tutto, ma anche di ritrovarsi con le spalle al muro. Infatti per avere via libera di Bruxelles ai piani del recovery plan, bisogna essere in regola con le raccomandazioni europee. Se Roma non si mette in regola, a rischio ci sono i fondi. I burocrati di Bruxelles, infassiditi dal racismo del governo, hanno già fatto intendere che l'Italia si deve adeguare a partire dalle concessioni per i stabilimenti balneari fino all'imposta per le autorità portuali. È partita la fiera dei ricatti. L'Europa vuole condizioni fortissime per darci qualche fondo. Ora parte ovviamente con questioni relativamente minori, poi andrà sicuramente alla carica su pensioni, sulle tasse, sugli immobili. Si è già partiti con quota 100 e poi magari si arriverà a IMU e a una bella patrimoniale. Insomma, lo scenario è oggettivamente cupo. Abbiamo degli incapaci al governo e in più ci ritroviamo un'Europa pronta a sbranarci. Da mesi ci vendono la pioggia di miliardi, però qui vediamo solo una pioggia drammatica di aziende e famiglie al collasso e ovviamente una valanga di poltrone e consulenze infinite.